La Sandra Abate scende in campo stasera per l'ultimo impegno del 2020. Trasferta romana per la squadra di Massimo Abate che sfiderà la Cybertella Niena al Palalto Live dopo i risultati utili consecutivi immediati contro Signor Prestito, CMB Grassano e Lassi e D'Meta. Attualmente la squadra vellinese di calcio a 5 occupa la quinta posizione in classifica con il primo posto che dista 8 punti. Finora la squadra vellinese ha sofferto molto in trasferta riuscendo a conquistare una sola vittoria lontano dal pala del Mauro contro il Todis Lido di Ostia. Marcello Batista, tecnico brasiliano della formazione irpina, presenta così la gara. La partita è difficile, la partita è un scontro, si tratta di un altro scontro diretto. Non si sta in una partita facile più o meno abbordabile. Quello che loro vogliono vincere non è la stessa cosa. Siamo due risultati utili consecutivi, però io già ho detto ai ragazzi, la classifica non conta. Dobbiamo affrontare un campo un po' più grande del nostro, però dobbiamo cercare di andare lì e cercare in tutti i modi di ottenere i tre punti, quello che conta per noi. Sappiamo che non è semplice, non è facile vincere nella Serie A. Ritorna di un campionato difficili, però stiamo cercando di curare un piccolo dettaglio, come un avversario è un punto forte e un punto deboli. Stiamo cercando, abbiamo lavorato questi giorni, con questo esquisito, per cercare di dovinare, e con massima concentrazione per cercare e fare il risultato.